e i profili per le assunzioni, per i profili professionali e per la mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica che oggi sono qui a rappresentare e innanzitutto benvenuti a tutti. Per prima cosa vorrei portare i saluti del Capo Dipartimento, Dottor Paolo Picchiarello che ha firmato la nota di invito a tutti i partecipanti delle progettualità Riva e Gru al webinar di oggi e poi quelli del direttore Dottor Alfonso Migliori che oggi non può essere presente che è il responsabile di entrambi i progetti. Allora per prima cosa vorrei un attimo cercare di contestualizzare brevemente dove ci troviamo e la finalità di questo progetto. Oggi diciamo che per noi è un incontro molto importante in quanto come ben sapete la riforma della pubblica amministrazione è una delle riforme trasversali del PNRR e nell'ambito di questa riforma sono state avviate diverse progettualità tra le cui diciamo quelle più importanti, almeno per noi, dell'ufficio dell'organizzazione del lavoro pubblico sono il progetto Riva e il progetto Gru. Ed oggi diciamo per la prima volta mettiamo insieme, creiamo un primo bacino di utenti che poi sono pubbliche amministrazioni, comune sulla base della quale, insomma al quale somministeremo per la prima volta un report completo, un questionario completo che andrà a popolare una serie di KPI, insomma di attori chiavi di monitoraggio per andare a capire se quello che sta ponendo in essere il Dipartimento della Funzione della Repubblica e la Presidenza del Consiglio tutta sta effettivamente portando a quel cambiamento che noi primi auspichiamo ma anche la Commissione Europea auspica e ci chiede di fare per affrontare le sfide del futuro. Quindi quest'oggi diciamo con i soggetti votatori, cioè Formez e i due progetti, responsabili dei progetti, il progetto Riva e il progetto Gru, vi andremo a illustrare quali sono diciamo le modalità attraverso le quali sarà possibile partecipare a queste importanti rivelazioni di dati che poi diciamo verrà collazionata e verrà diciamo sistematizzata al fine della pubblicazione di questo report KPI. Oggi poi è un giorno diciamo molto favorevole perché proprio oggi siamo riusciti a pubblicare il primo report dei KPI relativo alla prima semestralità dell'anno 2024. Abbiamo avuto il via dalla Commissione Europea dopo una lunghissima fase di assessment per la pubblicazione. Quindi se volete è disponibile sul sito del Dipartimento i risultati del primo report. Questo secondo report è per noi fondamentale in quanto setterà quello che diciamo è una baseline di dati e di insomma farà una fotografia di quella che è la situazione attuale della pubblica amministrazione e ci permetterà di portare avanti sempre in modo migliore, sempre più accurato le riforme che stiamo ponendo in essere. Oggi quindi come vi dicevo ci ritroviamo da una parte a parlare degli interlocutori e soggetti attuatori del progetto RIVA, cioè diciamo quella parte di Formez, quel progetto a cura del soggetto attuatore Formez che si cura della redazione e della creazione di un nuovo framework di competenze e alla creazione di nuovi profili professionali e alla messa a disposizione per tutta l'amministrazione di strumenti innovativi per la gestione strategica delle risorse umane. Come alcuni di voi già avranno diciamo avuto modo di conoscere il progetto RIVA si pone l'obiettivo sia da una parte di creare una library unica delle competenze per tutte le amministrazioni al fine di addivenire poi a una nomenclatura unica diciamo comunque a una diciamo a stilare un elenco di profili professionali che potrebbe essere poi utilizzato dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di cosa di cui mi occupo personalmente o anche diciamo per mettere processi di carriera come le professioni verticali o la mobilità anche intercompartimentali tra diciamo le varie amministrazioni. Dall'altro e questa e questo progetto va come diciamo come target di riferimento un estratto diciamo un campione rappresentativo di amministrazioni di tutti i vari comparti di tutte le varie dimensioni delle amministrazioni. Dall'altra parte invece abbiamo il progetto GRU che invece si concentra più su gli enti locali in particolare gli enti comunali, gli enti locali con una popolazione residente tra i 25 e i 250 mila abitanti che invece ha ad oggetto diciamo la capacità e la messa a disposizione di strumenti per l'aumento della capacità di pianificazione e organizzazione strategica del risorso umano in particolar modo agendo tramite la semplificazione e la reingenerazione dei processi. Quindi diciamo questi due progetti che per noi sono fondamentali per tutto il dipartimento diciamo sono diciamo caratterizzanti dell'azione da qui alla fine del PNRR che dovrà tutte le azioni che dovrà porre essere la il dipartimento della funzione pubblica oggi per la prima volta li portiamo a fattor comune ci incontriamo insieme e cerchiamo di andare a creare a popolare una baseline di dati sulla base della quale partire. Ora come vi ho detto eh questi due progettualità si inseriscono in un percorso molto più complesso e anche più diciamo strutturato che abbiamo eh posto in essere nell'ambito del PNRR. Vi do qualche elemento questi questa rilevazione eh fa parte della Milestone 59 e delle sue diciamo diramazioni e articolazioni che nel tempo si sono andate a creare cioè la 59 bis che come vi dicevo abbiamo raggiunto a giugno duemilaventiquattro con la pubblicazione del primo report KPI e poi della 59 TEC invece a scadenza a eh giugno duemilaventisei e nell'ambito del quale dovremmo dar conto dell'evoluzione dei di questi KPI quindi dell'evoluzione dei dati e dello stato di avanzamento di queste progettualità alla Commissione Europea. Quindi questo è solo un pezzettino eh fondamentale strategico ma è sempre un pezzo di un puzzle molto più grande a cui diciamo eh dobbiamo rendere conto alla Commissione Europea per il per il PNRR in particolare la scadenza che adesso noi abbiamo è quella del giugno duemilaventisei. Quindi eh questo record TPI per noi è fondamentale e ci servirà poi per capire come eh dosare le forze, le energie e cercare di capire come intervenire per diciamo aggiustare il tiro mentre quindi in itinere mentre stiamo ponendo in essere le altre decisioni. Ora non voglio rubare altro altro tempo ai ai miei colleghi vi ringrazio per la partecipazione vi rinnovo i saluti sia del capo dipartimento che del direttore eh ringrazio Formez e ehm do la parola al dottor Pinelli responsabile di progetto del progetto Riva. Grazie. Bene. Grazie dottor Acciai e grazie per l'invito ovviamente a questo webinar che rappresenta diciamo una utilissima occasione anche per come dire una opportuna auspicabile sempre più efficace sinergia anche fra i progetti appunto del soggetto attuatore Formez che vede appunto impegnato due importanti eh strategici progetti come quello che eh stiamo gestendo in questo momento ovvero il progetto Riva e il progetto e il progetto GRU della collega Ilaria Massa che poi mi mi seguirà in questa ehm diciamo presentazione. Eh prova a condividere lo schermo ehm sperando che si veda tutto vediamo un attimo non so se si vede datemi un feedback qualcuno magari penso di sì. Sì Giro prego. Ok perfetto benissimo. Allora perché non va avanti chiedo scusa. Ecco qua. Bene allora come diceva il 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 dottor Acciai ehm questo webinar ha lo scopo di presentare un po' a tutte le amministrazioni eh del progetto Riva eh e del progetto GRU eh appunto il set degli indicatori che confluiranno in questo secondo report di cui ha parlato. Come dicevo rappresenta anche una utile occasione per presentare i risultati, le attività e e finora raggiunti e anche l'aggiornamento delle attività in particolare ovviamente per gli enti direttamente coinvolti in Riva eh delle prossime attività operative che sono già diciamo in in corso di svolgimento. Ehm un brevissimo diciamo accenno a un come dire a quello che è il modello metodologico il costrutto metodologico che sottende tutta l'azione del progetto Riva. Come opportunamente diceva il dottor Acciai eh noi ehm concentriamo la nostra attenzione su eh gli enti di diversi comparti dalle amministrazioni centrali alle università ai enti locali eh con una popolazione superiore ai duecentocinquanta mila abitanti eh alle regioni, alle province, alle città metropolitane con un panel di eh circa sessanta amministrazioni in particolare cinquantotto amministrazioni che eh vede diciamo un un coinvolgimento molto attivo, proattivo con un un'attività di coprogettazione eh di quello che è poi fondamentalmente il core del nostro progetto ovvero il sistema professionale competency based ehm il framework il framework è esattamente quello che vi sto proiettando e eh eh sottende tutta la nostra azione operativa di eh appunto diffusione all'interno dei nostri PA del del sistema professionale competency based poiché mette proprio al centro le competenze eh e a partire dalla ehm rilevazione e classificazione di professione e competenze passando per la programmazione del fabbisogno del personale eh per il recruiting lo sviluppo professionale di rewarding o sviluppo di carriera ehm mette a terra una serie di operazioni, una serie di strumenti, una serie di tool che consentiranno una gestione strategica delle risorse umane al direttore HR di un ente. Ehm questo diciamo eh schema rappresenta un po' il modello di riferimento e rappresentano i cinque pillar per i quali noi stiamo ragionando anche appunto per la rilevazione del eh del del nostro monitoraggio. Come diceva il dottor Acciai è un monitoraggio fondamentale per capire l'impatto della eh riforma e quindi per noi assume una rilevante importanza eh la vostra partecipazione attiva alle a fornire le risposte che eh vi chiediamo con con questo questionario con il progetto GRU. Ehm ovviamente tutto questo non può che passare da un cambio di paradigma nella gestione delle persone che va dall'assuperamento della dotazione organica a favore delle facoltà funzionali dal dai fabbisogni eh non più valutati su categorie giuridiche ma su su figure professionali in possesso di competenze coerenti con mission obiettivi e processi la centralità dei profili professionali appunto a partire dai megroprocessi l'adozione del nuovo sistema nelle aree professionali le competenze fra i criteri per l'assegnazione della parte variabile della retribuzione e il modello di eh competenze proprio come paradigma per la descrizione e la ricalassificazione dei profili professionali quindi non più una gestione amministrativa puramente esclusivamente di natura contrattuale ovvero con un classico percorso che prevede nell'APA un accesso una gestione giuridica economica e una quiescenza ma eh di fatto una gestione e sviluppo e valorizzazione della risorsa umana che appunto mette il dipendente il personale al centro di un percorso di sviluppo. Eh ovviamente eh noi eh per fare tutto ciò eh abbiamo bisogno di di costruire il sistema professionale competenze based eh orientato alla gestione strategica e quindi abbiamo ragionato in eh classificatori autoconsistenti in database di profili e competenze e i diversi sottosistemi del personale devono dunque poggiare su un database comune eh in primis database dei profili e library delle competenze. Tutto questo per poter garantire un sufficiente livello di integrazione e di interoperabilità tra i diversi comparti. Eh ehm il sistema professionale ha delle caratteristiche ben precise eh ha una valenza giuridica contrattuale, ha una valenza professionale, ha una valenza di natura organizzativa. Ehm ovviamente eh noi agiamo nell'alvio ovviamente manco manco a sottolinearlo della 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 ehm posizione giuridica del del dipendente. Quindi eh tutto avviene e nell'alvio della del contratto ma ovviamente con come dire un riferimento eh con un'attenzione a quella che è la valenza organizzativa in quanto riteniamo che la risorsa debba essere connessa ai processi e all'attività agita all'interno delle amministrazioni con eh la persona giusta al posto giusto. Quindi con azione prima di job description e poi di job profile. Ehm abbiamo assunto quali elementi costitutivi appunto una matrice comune di classificatori e una grammatica comune descrittiva delle competenze. Non solo delle competenze ma anche dello stesso sistema eh professionale che deve essere scritto redatto secondo regole condivise perché queste poi consentiranno una reale interoperabilità tra i diversi eh comparti. Eh un esempio per tutti. Eh il sistema professionale per gli enti eh locali per le amministrazioni territoriali si suddivide in dimensioni professionali, in famiglie professionali, profili professionali, ambiti di ruolo e eh profili di ruolo. Eh ovviamente non mi soffermo per ragioni di di tempo sulle slide che sto proiettando e rappresenta soltanto una traccia ma ovviamente metteremo a disposizione di tutto il di tutti i partecipanti alla fine del webinar queste slide che vi sto che vi sto mostrando. Ehm i vantaggi quali sono per un'amministrazione di dotarsi di un sistema professionale competency based? Beh facilitare la programmazione del fabbisogno di nuove professionalità per definire strategie di attrazione, reclutamento e selezione consente eh operazioni di mobilità anche intelligenti perché ehm eh consente appunto di paragonare i diversi dipendenti in termini di competenze reali possedute e di profili eh descritti. Facilita la collocazione come dicevo prima delle persone giusto al posto giusto e permette di programmare la formazione per upskilling e reskilling delle competenze. Insomma un miglioramento ci auspichiamo complessivo del clima organizzativo. Quali sono le attività realizzate del progetto Riva? Beh abbiamo fatto ehm tante tante attività abbiamo prodotto tanti documenti eh mi piace sottolineare che ovviamente i documenti che noi proponiamo poi alle amministrazioni sono documenti eh condivisi, validati, approvati dal dipartimento in particolare dalla unità centrale che in qualche modo orienta, ehm indirizza il nostro lavoro metodologico e solo dopo l'approvazione e la condivisione eh con l'unità centrale eh insediata presso il dipartimento della funzione pubblica ovviamente noi proponiamo alle amministrazioni dei modelli metodologici che in qualche modo poi eh costruiranno il tutta l'attività del progetto Riva. Eh in realtà abbiamo eh costruito una serie di documenti di base che ehm hanno eh come dire consentito di eh mettere a terra quelle che sono le prime attività del cantiere uno ovvero eh il primo pillar che è quello della creazione e relazione del sistema professionale e della programmazione del fabbisogno di personale. Qui vedete scorrere alcune eh appunto alcuni dei dei documenti che abbiamo prodotto eh sette indicatori di performance applicabili al progetto, individuazione e comparazione delle più significative esperienze di modelli HRM eh a livello nazionale e internazionale, identificazione di alcune amministrazioni storyteller, ovvero amministrazioni che avessero qualcosa da dire alle altre amministrazioni che partecipano in termini di si può fare, si può applicare un modello di genere e abbiamo realizzato tutto questo anche con il supporto prezioso del COINOR, questo centro interdipartimentale dell'Università di Napoli Federico II eh per il quale eh appunto abbiamo gesto la collaborazione proprio per avere anche un orientamento di natura metodologica. Eh gli autotiprodotti, matrici del sistema professionale per comparto eh abbiamo individuati i sistemi professionali, eh li stiamo costruendo in alcuni casi proponendo e poi ampliando ed integrando con un lavoro di co-rogettazione, in altri casi come per esempio per l'università abbiamo eh deciso di fare un lavoro di co-progettazione che sta avvenendo proprio in queste settimane con uno scambio continuo di eh e confronto proprio su quello che noi eh proponiamo. Ehm ovviamente il tema della comparabilità è fondamentale come così il tema del classificatore del profilo professionale. Abbiamo poi prodotto un altro documento fondamentale metodologico di riferimento che è costituito dalla library delle competenze ovvero i dizionari di competenze che eh in qualche modo sono anche stati confrontati con i framework eh syllabus il portale appunto della formazione e anche SNA eh per le competenze comportamentali per cercare di integrare e migliorare quanto più possibile il eh come direi le definizioni di competenza che sottendono ovviamente un sistema professionale competenze i tre dizionari saranno comuni a tutte le amministrazioni ma ovviamente possono essere integrati possono sono non sono dei musei ci piace dire ma sono dei eh dizionari in continua evoluzione. Abbiamo da poco eh mentre per il dizionario delle competenze eh stiamo ancora eh con un confronto attivo con la unità centrale per eh validarlo definitivamente eh abbiamo invece ehm come dire validato e approvato il modello di programmazione dei fambisogni del personale che in qualche modo prova a superare la logica della sostituzione del turnover uno a uno ovvero verso una programmazione di effettive esigenze di personale eh che tengono conto anche dei possibili scenari futuri e che tengono conto del ruolo strategico del management nella rilevazione del fabbisogno di personale. Dicevo appunto incontri di coprogettazione specialmente realizzati per università identiche di ricerca abbiamo già realizzato degli incontri sono in corso di realizzazione delle modifiche anche alle matrici che abbiamo proposto alle università e che ci hanno restituito in qualche modo un feedback. Qui qualche dato ribilogativo giusto per dare l'idea del lavoro che abbiamo svolto finora ehm nell'ambito del cantiere uno eh abbiamo fatto diverse eh sessioni sia in presenza che a distanza con webinar che hanno visto una assiccia l'artecipazione anche dei eh dipendenti degli enti coinvolti eh e ora invece siamo in una fase più operativa diretta di affiancamento alle amministrazioni degli enti locali ehm dove siamo i prossimi passi? Beh questo è è uno schema ribilogativo che di fatto deriva dal framework CBHRM. Come vedete siamo nel cantiere uno dove in qualche modo stiamo mettendo a terra il sistema professionale e il modello di programmazione del fabbisogno ehm eh abbiamo messo in cantiere appunto tutta un'attività di job description, di library dei profili, di job profile, di library delle competenze, di job analysis proprio per eh consentire alle amministrazioni di eh recepire la nostra proposta e poi di integrarla e migliorarla quanto più possibile. Eh sugli altri cantieri ovvero il cantiere due, il cantiere tre, il cantiere quattro, in realtà i pillar sono cinque, i cantieri cin, sono cinque ma noi abbiamo inteso suddividere il primo cantiere in due ma con attività perché sono eh non sfugge a nessuno strettamente connessi i temi del sistema professionale con il tema della programmazione del fabbisogno. Dicevo che sul cantiere due, cantiere tre, cantiere quattro è in via eh di progettazione operativa con anche il supporto dell'Università di Napoli Federico II proprio per avviare un'accumulazione di esperienze e di conoscenza su temi che essenzialmente sono nuovi per la pubblica amministrazione. Pensiamo allo sviluppo al eh professionale, al rewarding che è una pratica molto diciamo eh in uso presso il il mondo privato e che nella pubblica amministrazione ovviamente deve essere ancora ben consolidata. Un po' di dati sull'elaborazione dei profili professionali, job description e job profile e competenze. Per gli enti locali e per le regioni abbiamo completato l'operazione di scrittura dei profili professionali e dei profili di ruolo in numero di trenta e di centosedici. Per le regioni abbiamo appena completato da qualche giorno la redazione dei ventisette profili professionali che pensiamo possono essere utili e possono coprire diciamo un po' le polisi delle delle amministrazioni regionali con centodieci profili di ruolo. Per quanto riguarda le competenze elaborate e redatte, ripeto anche con un confronto con gli altri elementi del sistema ovvero syllabus e SNAP, abbiamo redatto settantuno competenze tecnico professionali, centocinquantacinque competenze tecnico specialistiche e trentuno competenze comportamentali, con tanto di grading ovviamente di valutazione del livello di possesso del singolo dipendente da 1 a 6. Che cosa dobbiamo fare prossimamente? Beh prossimamente dobbiamo proseguire sicuramente l'attività di affiancamento e di sperimentazione e siamo nel vivo di questa attività con gli enti locali per i quali come abbiamo visto abbiamo costruito il sistema professionale, man mano a cascata ci rivolgeremo anche alle altre amministrazioni a stretto giro, alle regioni, agli enti delle funzioni centrali e alle università ovviamente proprio per affiancarle con una modalità di lavoro basata sull'empowerment, ovvero su una forte partecipazione attiva e non di sostituzione ovviamente ma di affiancamento attivo da parte di Formez presso le amministrazioni. Che cosa facciamo e faremo a stretto giro? Ripeto, un approfondimento in corso relativo all'approccio metodologico dei cantieri 2, 3 e 4 del framework prevede la realizzazione di un ciclo di webinar e di questo già abbiamo realizzato con il professore Paolo Ricci il 29 ottobre scorso un primo webinar di questo ciclo e qui vedete le date del calendario dei prossimi webinar che si concluderanno il 16 dicembre con un webinar a cura della professoressa Vincenza Capone. Quindi abbiamo un primo ciclo di webinar che poi ovviamente possono essere anche approfonditi sulla base anche delle vostre esigenze, delle vostre richieste. Dicevo che abbiamo avviato la fase di affiancamento presso gli enti locali, abbiamo definito e condiviso con questi primi cinque enti un piano di lavoro che rappresenterà un po' l'ossatura della fase di affiancamento, abbiamo realizzato finora quattro incontri con il comune di Genova, la città metropolitana di Napoli, la provincia di Taranto, la provincia di Forlice Sena e prossimamente il 12 novembre con il comune di Verona. Tutto questo ovviamente è supportato come diceva anche il dottor Acciai in apertura da uno strumento fondamentale che è quello del toolkit Riva, questa piattaforma informatica che di fatto traduce in una piattaforma tutto quello che è l'impianto metodologico che proponiamo alle amministrazioni. Quindi all'interno del toolkit Riva abbiamo diversi tool, oltre che la banca dati unica dei profili professionali, degli enti locali, delle regioni e man mano a seguire anche delle altre amministrazioni. Abbiamo dei tool per gestire l'assessimo delle competenze, un tool per gestire la programmazione di fabbisogno di personale e ci sembrava molto utile e lo abbiamo fatto e a breve lo presenteremo anche in maniera più completa alle nostre amministrazioni, un tool di intelligenza artificiale generativa con linguaggio naturale. Serve molto questo tool, riteniamo perché abbiamo ipotizzato che l'operazione di creazione, aggiornamento di nuovi profili professionali, possa essere agevolata da uno strumento appunto di intelligenza artificiale che consenta attraverso uno score di similarità di definire se il profilo che io voglio aggiungere per la mia amministrazione è già presente e lo posso fare con linguaggio naturale. Quindi con una ricerca basata sull'intelligenza artificiale e che ovviamente rispetta anche le regole di sintassi e di grammatica che in qualche modo il tool deve rispettare perché l'amministrazione dovrà in qualche modo poi utilizzare lo stesso glossario per le questioni di interoperabilità che in qualche modo abbiamo detto all'inizio essere fondamentali. Proprio sulla programmazione del fabbisogno abbiamo in animo di organizzare un prossimo webinar di presentazione del modello che ripeto è stato approvato e quindi a breve, almeno per le amministrazioni del progetto RIVA, proponiamo un webinar che presenterà il modello. Ovviamente tutto questo, interrompo la condivisione, sperando di essere stato nei tempi e scusandomi se magari su qualche passaggio sono andato veloce ma ovviamente voglio lasciare il tempo anche giustamente alla collega dell'area bassa e poi alla presentazione dello strumento per la rilevazione del KPI. Tutto questo per evidenziare che il nostro questionario è appunto incentrato sull'analisi dell'impatto dei progetti proprio su questi pillar, sui pillar che abbiamo visto e sui quali noi stiamo proponendo strumenti, modelli, tool per far sì che ci sia una reale gestione strategica delle risorse umane che diventano veramente poi una risorsa per il valore pubblico. Io avrei concluso e passo la parola alla collega Ilaria Massa credo se non vado in là. Grazie Ciro, solo un breve un breve recap di quello che è stato detto, secondo me lo slogan che deve passare è quello che hai usato anche tu, la persona giusta nel posto giusto. Quindi tutto diciamo il progetto RIVA mira a questo, a cercare di fornire modelli, lavori di competenze e data base, tutta una serie di strumenti che permettano di dare all'amministrazione un qualcosa che cambi il modo di coprire i posti, che non diventa appunto più solo copertura di posti nell'organico, ma andare a dotarsi delle persone giuste che svolgano il lavoro per cui hanno studiato, per cui si sono formate e che lo facciano nell'ambito delle esigenze delle pubbliche amministrazioni. Quindi attraverso le persone cercare di generare ehm valore pubblico. E hai anche richiamato un altro attore fondamentale in tutte queste riforme, cioè eh l'unità centrale, l'unità operativa centrale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica che oggi è qui rappresentata dalla professoressa Palmini, che ringrazio, e insieme al professor Carapella, Lui Argine e Mezzacapo, eh diciamo garantiscono la rilevanza scientifica e la eh diciamo eh supervisionano ecco dal punto di vista scientifico e metodologico tutte queste operazioni e le individuazioni sia dei profili professionali, di rilevazione dei QPI, dei questionari che vi saranno somministrati. Quindi volevo ringraziarli e niente. E passo adesso la parola a dottoressa Laria Massa che invece ci si occupano che insomma è responsabile di progetto eh del di GRU che è l'altro progetto come dicevo eh sempre a cura del Dipartimento e niente passo la parola. Grazie ancora. Grazie. Grazie mille dottor Acciai. E allora adesso vado anch'io a condividere il contributo. Immagino si si veda. Quindi allora anch'io brevemente in introduco a beneficio di tutti un po' quello che è l'obiettivo del del progetto GRU che è l'acronimo di innovazione organizzativa e gestione strategica delle risorse umane. Ribadisco che il nostro target è l'universo di tutti gli enti locali che hanno abitanti tra i venticinque mila e i duecentocinquantamila eh insomma dei duecentocinquantamila abitanti. Perché l'obiettivo è quello poi di ehm diciamo sviluppare in coprogettazione con gli enti un modello per rafforzare la capacità amministrativa avendo un focus in particolare sulla gestione delle risorse umane. Una gestione che deve essere appunto strategica e flessibile sulle esigenze degli enti. Abbiamo iniziato eh questo percorso lo scorso anno in cui anche grazie all'aiuto di eh esperti abbiamo siamo andati a definire quelli che sono eh gli indicatori chiave che vanno a popolare la dimensione che riguarda la performance organizzativa e il capacity building ed ecco e con cinquanta di di questo universo di enti locali che abbiamo portato diciamo che abbiamo potuto raccogliere i dati proprio su queste misure e contribuire anche noi dalla con la nostra parte al report che citava prima il il ministero. Quindi l'ultima rilevazione risale allo scorso genno duemilaventiquattro. Nel corso di questo intervallo di tempo ci siamo concentrati per andare a sviluppare lo strumento che eh tra poco vi andremo a presentare e che servirà per la raccolta eh del diciamo delle informazioni utili a monitorare gli indicatori che servono a misurare l'avanzamento della riforma e anche soprattutto l'accompagnamento a tutti voi che eh ci supporterete per la raccolta di queste informazioni. Qualche diciamo qualche dato anche proprio per ringraziare tutti gli enti che eh sono diciamo hanno partecipato alla scorsa rilevazione avevamo un target di quaranta amministrazioni siamo riuscite a raggiungerne cinquantuno. Questo giro il target è più sfidante per cui chiediamo il supporto di tutte le amministrazioni che a dicembre ventitré si hanno aderito alla manifestazione di interesse. Adesso eh brevemente andremo a presentarvi quelle che sono poi le misure che eh che servire che dovremmo andare a eh valorizzare nel corso di questa prossima rilevazione. Abbiamo detto come anche citava il collega eh diciamo l'architettura che serve ad andare a misurare la la riforma si compone di sei pilastri. Eh ripeto diciamo anche eh quelli che sono i primi cinque che andiamo ad ereditare e condividere da questo momento in poi del progetto Riva che sono la prima dimensione che è la rilevazione e la classificazione di professioni e competenze. Nel secondo pilastro troveremo degli indicatori che vanno a misurare la eh capacità di programmazione del fabbisogno del personale. Il terzo pil riguarda il reclutamento. Il quarto lo sviluppo del del personale. Il quinto il reward e lo sviluppo della carriera e il sesto che è quello che eh alcuni diciamo gli enti eh locali conoscono e quello che riguarda il capacity building e la performance organizzativa. Rispetto a eh quest'ultimo pilastro eh questo si compone di sottoambiti che sono le eh l'ambito denominato individuo quindi riguarda anche in questo caso la composizione e lo sviluppo del personale ma con una prospettiva di eh diciamo dal punto di vista dell'organizzazione quindi non della singola risorsa ma dell'architettura diciamo del della visione più ampia che è l'organizzazione del dell'amministrazione nel suo complesso e in questo caso abbiamo dei sottoambiti che riguardano le progressioni, il turnover, il personale quindi e e qui eh possiamo già vedere che sono entrati rispetto alla scorsa rilevazione anche degli indicatori nuovi che anche le cinquanta eh cinquantuno enti locali della precedente rilevazione non avevano valorizzato ad esempio quelle delle donne con ruolo manageriale e dirigenziale o tutto quello che riguarda gli aspetti della mobilità. Andando a vedere l'altro il secondo sottoambito che va a formare il sesto pillar abbiamo quello che riguarda le forme e i modelli di organizzazione del lavoro dove qui ci andiamo a concentrare e cerchiamo di andare a diciamo di misurare il il grado di adozione del lavoro agile e di altre forme di eh flessibilità all'interno delle delle amministrazioni. Infine eh avremo poi un diciamo abbiamo due sotto oltre i ruoli due sottoambiti che riguardano la struttura e i processi organizzativi anche perché come eh ripeteva prima il dottor Accea nell'introduzione uno dei focus è anche comprendere a valle di questo progetto di questo progetto quali sono le innovazioni a livello di strutture organizzative anche di revisione dei dei processi che può essere opportuno adottare a livello di amministrazioni ed infine il contesto diciamo macro organizzativo che ha come principale misura quella dell'innovazione in questo caso declinata come eh innovazione che eh favorisce la gestione delle risorse umane. A questo punto eh quello che è stato il lavoro principale del del progetto è stato quello di andare a sviluppare il portale per il monitoraggio di eh di questi indicatori. Quindi tra poco lascerò la parola al dottor Carrone che andrà ad illustrare in dettaglio il funzionamento di eh di questo strumento di questo CRM e in particolare andremo a eh diciamo a illustrare come avviene la ricezione delle credenziali e l'accesso al portale, come andare a navigare la scheda di rilevazione degli indicatori in modo da poter fornire le informazioni richieste, come completare la scheda e adattare quindi il cambiamento di status in modo da consentire, poi il dottor Carrone lo spiegherà ancora meglio, un controllo al termine della compilazione da parte delle amministrazioni, da parte dei nostri operatori per poi eh trasmettere la la scheda, semplicemente un controllo per verificare che non ci siano delle anomalie nei dati caricati, quindi dei meri errori manuali, la stampa di quanto prodotto e tutti gli strumenti che saranno poi previsti per eh aiutare insomma tutti voi partecipanti a eh diciamo a fornire le informazioni che vi richiediamo. Nello specifico gli strumenti a supporto sono, saranno tre in particolare i principali che sono le linee guida alla compilazione che è uno diciamo un documento che si che vandrà a descrivere in dettaglio ogni singolo quesito che viene posto in modo da chiarire eventuali diciamo eh diciamo tutti gli aspetti della domanda formulata e consentirvi poi anche una un'assistenza. Sarà poi attivato anche un helpdesk a doppio livello, un helpdesk meramente tecnico e un helpdesk tematico che andremo a vedere meglio e eh delle videopillole che saranno appunto questi brevi video focalizzati su specifici aspetti eh dello strumento che eh diciamo dovrebbero chiarire eventuali dubbi. Quindi come dicevo nello specifico vedrete che eh la eh la linea guida, linea guida alla compilazione vanno ad indagare quesito per quesito andando a illustrare anche eventuali eh aspetti relativi a eh le modalità di risposta. Per quanto riguarda eh l'helpdesk questo è raggiungibile via mail perché c'è appunto un'email collegata al al CRM. Cioè ci sarà poi un helpdesk tecnico eh del che andrà a supportare proprio meramente la compilazione della singola scheda e eh fungerà anche un po' da reminder. Cioè noi monitoreremo per fornirvi supporto lo stato di compilazione in modo tale da comprendere se ci sono anche delle eh difficoltà di natura tecnica e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle nove alle diciotto. Ci sarà poi un terzo livello che è l'helpdesk specialistico che funzionerà on demand e che sarà attivato laddove le linee guida non forniscano sufficienti informazioni per ben interpretare o magari la situazione della vostra amministrazione è così particolare da dover fare un successivo passaggio con i nostri propri esperti tematici che quindi andranno sarà eh smistata questo tipo di richiesta sulla base del dell'ambito eh tematico. Infine avremo delle eh delle videopillole che saranno disponibili che eh che vi saranno appunto inoltrate che riguarderanno sia tra le altre cose la guida rapida alla compilazione delle nostre schede, l'organizzazione e la gestione dei appuntamenti proprio per poter parlare e interagire con i nostri esperti tematici quindi l'helpdesk di secondo livello, la gestione e la condivisione di eh di documenti. A questo punto passerei la la parola al dottor Carrone che che saluto e ringrazio per esplorare in più in dettaglio lo strumento. Eccomi. Allora come eh vi faccio vedere già la dottoressa Massa il primo accesso eh verrà effettuato da questa interfaccia qui dal dominio riforma.pa.formance.it riceverete dal team di supporto eh le credenziali per accedervi quindi una user e una password. Il 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 referente che vi fornerà queste credenziali sarà anche il referente con cui potrete avere un contatto diretto eh senza passare attraverso l'email generica info chiocciola riforma.pa.it e che quindi vi potrà supportare nel nella compilazione appunto del del questionario e anche in tutte le vostre esigenze di approfondimento delle tematiche del del questionario di rilevazione dei KPI. Una volta effettuato l'accesso vi trovate questa semplice interfaccia dove avete la possibilità di scaricare dei documenti come il manuale utente per il CRM e poi anche la guida di compilazione di KPI. Nella sezione schede troverete la scheda che è relativa al questionario che ehm che dovete appunto completare. Accedendo alla sezione schede potete cliccare sul pulsante modifica. A questo punto eh non dovete far altro che completare le varie voci che vengono proposte. Eh la compilazione è assincrona quindi eh se eh in un primo step non riuscite a completare tutte le voci o dovete recuperare delle informazioni semplicemente modificate lo status della vostra scheda a bozza e salvate quanto avete elaborato fino adesso. Tornando all'interno in un secondo momento completata la scheda potrete eh sempre facendo la modifica eh mettere la scheda in uno status elaborata. Poi i mh i colleghi i referenti che vi hanno accompagnato eventualmente nella compilazione del questionario che vi hanno supportato chiuderanno la scheda e la metteranno in sua lettura in modo tale che il dato possa essere acquisito e consolidato. Nella scheda trovate tutte le domande eh necessarie per eh la misurazione dei KPI come vi state esposto ehm che appunto devono essere completate tutte. La gli altri strumenti che trovate all'interno di questa interfaccia attualmente riguardano le interazioni che avete avuto che avete avuto col team di contatto. Quindi eventualmente delle chiamate che avete prenotato e che sono ancora pianificate trovate appunto la chiamata con il giorno in cui questa chiamata è programmata oppure eventuali appuntamenti che avete preso con con il nostro team di contatto o con le helpdesk per quanto riguarda eh approfondimenti specifici e specialistici. Eh restituisco la parola ad Ilaria e poi rimanga a disposizione per per domani di approfondimento. Grazie mille. Ok diciamo che eh ringrazio il il collega Carrone eh in realtà questa è eh diciamo la parte di di scheda eh in particolare che eh che servirà non so eh se ci sono magari quei siti in in particolare che possiamo eventualmente raccogliere in in chat questo solitamente è un ottimo segno è un pessimo segno. ok. Ok allora andiamo con ordine rispetto ai tempi di eh di compilazione come era stato citato e anche credo nella nella comunicazione sarà da da partire da oggi fino al al quindici di eh di novembre. Eh le domande saranno visibili eh per mezzo delle linee guida che vi saranno messe a disposizione quindi voi avrete la possibilità di andare a visionare l'intero eh l'intero questionario. e il il webinar sarà comunque messo a vostra disposizione su tutti i eh i canali di Formez in modo tale che se ci sono degli aspetti in particolare che volete andare a rivedere vi sarà possibile ma eh diciamo proveremo a sopperire a questi aspetti attraverso la videopillola in modo tale che non nessuno sia costretto a vedersi un'ora di di webinar per andare a cercare il contenuto che lo interessa e potrà andare in in modo mirato eh alla diciamo al punto che eh di loro diciamo di il punto che è quello più delicato e il nodo che vogliono andare a sciogliere vi vi trasmetteremo tutto quello che è il link e le credenziali. Cristiano forse vuoi eh visto dato che era il primo punto no? Quello la la trasmissione delle credenziali eccetera vogliamo specificare meglio? dato che ce lo chiedo. Eh sì se vuoi sì eh praticamente le credenziali per chi ha partecipato oggi al webinar le riceverà domani riceverà link e credenziali. Leggevo anche che qualcuno chiedeva se potrebbe visionare il questionario una volta avuto le credenziali si può accedere si può visionare il questionario online in quanto la la compilazione può essere fatta in qualsiasi momento non è necessario appunto eh compilarlo nel momento stesso in cui si accede. Per quanto riguarda sì il link per accedere abbiamo detto che vi verrà inviato almeno per chi per chi c'è oggi qui presente gli verrà inviato entro domani insieme ai user e password e quindi verrà attivato il il proprio ambiente dove potrete accedere e compilare la vostra scheda. Per quanto riguarda le tempistiche Ilaria vedo una domanda sulle tempistiche. Allora per quanto riguarda le tempistiche lo ribadiamo è dal 5 novembre al quindi da oggi dal 15 novembre. Eh il il questionario è rivolto a tutti quindi sia enti locali che anche le eh diciamo il vasto panorama delle amministrazioni di GRU e eh diciamo se può essere di di supporto possiamo mostrarvi a a schermo quali sono le eh le linee guida in modo tale che abbiate la possibilità già eh da adesso di eh vedere come eh come sono strutturate. quindi ok allora hai risposto già però forse vado la pena sottolineare appunto che il questionario è indirizzato a tutto il panel complessivo e tutte le amministrazioni le cinquantotto più le centotrentasei di Riva e Gru devono poi restituirlo attraverso questo sistema che ha mostrato il collega Cardone. Quindi ehm va va nella logica eh che abbiamo utilizzato anche a maggio scorso eh quando abbiamo sottoposto diciamo una prima rilevazione e questo diciamo questionario arricchisce integra eh le i quesiti che era avevamo eh posto nella scorsa tornata proprio per i motivi che diceva in apertura il dottor Acciai. Per cui eh tutte le amministrazioni dalle centrali ai comuni tra venticinque e ducentocinquanta mila abitanti devono compilare e eh e restituire nei tempi che ha dato la collega Amas. Comunque eh grazie Ciro. Eh diciamo questa è eh come vi eh vi dicevamo la eh la struttura quello che vedete a schermo saranno le linee guida che saranno messe a vostra disposizione. sono articolate per dimensione e quindi per vanno a illustrare ogni ogni singolo quesito. Quindi eh ciò che eh che troverete appunto la eh la premessa con quello che sono il il link per per accedere al diciamo al al CRM dove avrete la possibilità di andare a eh diciamo a compilare eh la la scheda e quelli che sono i numeri della dell'assistenza. Quindi verrà ribadito qual è viene ribadito quello che è l'indirizzo email e quelli che sono i recapiti telefonici. Eh una preceditazione perché vedo le domande sono molte sul tema. Il questionario è unico per tutte le amministrazioni quindi sia per il progetto Riva che per gli enti locali. Abbiamo deciso di procedere in questa fase a una diciamo a un mix passatemi il termine l'anticismo eh del panel cioè a un'unificazione dei panel e all'erogazione e alla somministrazione di uno stesso di uno identico questionario per tutte le amministrazioni. Proprio perché la ehm la Commissione Europea ci ha chiesto di avere un panel di riferimento unico per questo tipo di rilevazione statistica. Ovviamente poi i dati che ne emergeranno saranno oggetto di analisi e immaginiamo ancora non abbiamo deciso ancora stiamo eh diciamo discutendo con la unità centrale classerizzazione eh suddivisione in fasce suddivisione per tipologie per comparti faremo questo tipo di analisi da restituire poi alla Commissione però l'importante è che eh passi il messaggio che il questionario è unico quindi ci sarà un questionario unico per tutte le amministrazioni. Semplicemente questo. Ok eh allora grazie grazie mille dottor Acciai e quindi queste linee guida che eh che sono rivolte a tutti quanti voi che siete stati invitati a questo a questo webinar per ciascun pillar ci sarà la descrizione generale della dimensione proprio perché siamo in una fase di merge per cui è corretto che quello che era il vecchio chiamiamolo ex target riva e quindi nuovo target seconda rilevazione che non ha avuto visione dell'ultimo pillar sia nella condizione di poterno comprendere appieno quindi comprendere come è strutturato e l'obiettivo analogamente per il target di ex target prima rilevazione ma che che abbracci che erano gli enti locali che saranno chiamati a rispondere per tutti e se i pillar anche in questo caso dare contezza della dimensione di quello che è l'obiettivo per ciascun del del singolo del singolo pilastro per ciascun pillar poi sono elencati i differenti quesiti che servono per andare a valorizzare le misure che lo vanno a comporre pertanto sarà riportata la domanda le differenti modalità di risposta e per ciascuna modalità di risposta è illustrata la spiegazione affinché sia più semplice ed immediato comprendere in che situazione ci si trova e quindi così per per tutti quanti per tutti quanti i quesiti quindi vi sarà a strettissimo giro messa a disposizione e già solo su questo documento che sarà comunque caricato all'interno del crm sarà a disposizione il link per l'accesso allo strumento di raccolta dati e un elenco dettagliato di quelle che sono tutti quanti tutti quanti i quesiti se posso rispondere a due domande che ho letto la compilazione si può avvenire in più sessioni perché come stavamo dicendo durante la presentazione una volta effettuato l'accesso guidate voi modificate voi lo status del vostro questionario il primo accesso può essere anche solo una consultazione poi gli accessi successivi potete completarlo fino a quando segnalate voi la chiusura appunto del questionario e poi leggevo anche che ogni amministrazione ha sì un unico questionario da compilare il questionario è legato appunto all'amministrazione viene compilato da un referente della vostra amministrazione restituisco la parola ad Ilaria ok non vedo altri ok diciamo che più o meno se non se non sto leggendo male sono le domande sono un po' le stesse ricorrenti quindi provo a fare un diciamo una sintesi ultima sì vi verranno allora il questionario si rivolge a tutte le amministrazioni sarà disponibile sul CRM è previsto che vi sia trasmesso il link in modo tale che voi possiate registrarvi e possiate e possiate accedere metto nuovamente a schermo le le linee guida perché all'interno delle linee guida è presente il link per connettersi allo strumento e quindi per potersi registrare sono presenti tutti quelli che sono i contatti dell'assistenza sia via email sia telefonica questo vi permetterà di poter procedere con la compilazione nell'ambito del tempo che è dato a disposizione 5 novembre 15 novembre di poter interagire con la nostra assistenza IT quindi per poter eh eh alla fine di questo questionario che potete compilare in più tempi chiuderlo e e farcelo trasmettere e registrare per la raccolta dati avrete a disposizione per ciascuna delle domande che compone il questionario la eh diciamo la descrizione del quesito la descrizione in dettaglio di tutte le eh le varie modalità di risposta e la descrizione delle modalità eh di risposta le linee guida vi saranno messe a disposizione saranno messe a disposizione sul sito di Formez vi saranno eh trasmesse e saranno anche poi disponibili sul CRM laddove vogliate consultarle all'atto della compilazione quindi come come potete vedere per ciascuno dei pilastri sono previsti i dettagli della eh diciamo di la guida alla risposta e questo comprende la descrizione di quella che è la terminologia adottata per la formulazione della risposta il periodo di osservazione a cui si va a riferire la la domanda e nel caso in cui ci siano delle interdipendenze tra i quesiti vale a dire non mi devo stupire se all'interno della della linea guida alla compilazione appare ad esempio il quesito due punto due faccio un esempio eh e a me non compare perché probabilmente non è una domanda rivolta a me in quanto una risposta che ho dato in una sezione precedente fa sì che io non sia chiamato a rispondere al quesito successivo quindi laddove non vi non non abbiate una perfetta specularità tra linea guida e questionario che vedete comparire and vi suggeriamo di andare a verificare all'interno delle linee guida o contattare noi perché molto probabilmente si trattava di un quesito eh che non che non vi spettava sulla base delle risposte che avete precedentemente fornito sì volevo rispondere anche io a una domanda posta in chat da parte di Andrea del Carlo ora il questionario si riferisce ovviamente all'implementazione del modello Riva ma del modello del framework eh costituito dai 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 cinque pillar più la sesta dimensione di capacity building quindi mira appunto a monitorare a avere informazioni precise sul livello di maturità delle amministrazioni rispetto ai quesiti che adesso l'area massa vi ha diciamo mostrato in sequenza e che appariscono ai singoli pillar quindi dal sistema professionale fino al reclutamento eccetera fino al D6 che è appunto la 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 dimensione della capacity building e della performance eh è evidente che mira anche a eh raccogliere informazioni da amministrazioni che abbiano formalmente adottato un sistema professionale o da amministrazioni che in qualche modo lo ehm lo utilizzano eh in maniera diciamo non sostanziale ma non ma non formale quindi eh in particolare alla prima domanda c'è un richiamo proprio a questa possibilità per cui eh la domanda del dottore del Carlo eh diciamo c'è una doppia risposta sì per entrambi le cose vale per misurare l'implementazione del progetto Riva e eh anche per le amministrazioni che hanno già un sistema professionale competency based perché poi da quello si dirama tutta la sequenza e la struttura di domande degli altri degli altri pillar segnalo a dottoressa Schifano nella chat ha eh messo il link della pubblicato quest'oggi come ho precedentemente anticipato e insomma vi invito ad andare a prendere visione per andare a capire più o meno eh di che cosa stiamo parlando e qual è il prodotto eh di questa relazione di questo di questo report. Vi segnalo che come già abbiamo detto questo report di giugno duemilaventiquattro è stato oggetto di un lunghissimo assessment da parte della Commissione Europea che è entrata estremamente nel dettaglio di ogni singolo eh KPI chiedendoci condizione, motivazione, razionale, per quale motivazione e per quale finalità eh diciamo abbiamo misurato questo dato. Mh eh il report che vi stiamo sottoponendo oggi ad oggi è stato arricchito rispetto a quello precedente di ulteriori undici KPI alcuni richiesti specificatamente dalla Commissione penso a quello relativo alla percentuale di donne nel management delle pubbliche amministrazioni quindi insomma se volete andare a prendere visione a capire a che cosa serve questo questionario potete andare a a prendere visione di questo report. Se non ci sono altre domande io insomma passerei saluti. C'era un quesito sui prossimi step di di Gru. Eh allora il i prossimi step di Gru sono quello di eh andare a eh fare un approfondimento con un panel di enti locali per andare a eh comprendere come mettere in atto i piani di miglioramento proprio sulla base delle informazioni che noi andiamo a raccogliere grazie a questo tipo di rilevazioni. Dopodiché il progetto prevede che parta un'altra linea di eh di attività che non si concentra tanto su l'assetto organizzativo in quanto tale ma sul collegamento risorse umane e assetto organizzativo e anche in questo caso ci sarà molto probabilmente un altro momento di sinergia con il progetto Riva perché eh diciamo per armonizzare quello che riguarda il framework delle competenze che determinano la persona giusta nel posto giusto ma perché l'organizzazione ha individuato lo stream di lavoro giusto quindi noi siamo l'altro l'altro pezzo bene se non ci sono altre domande io ringrazio eh ringrazio i partecipanti e tutte le pubbliche amministrazioni che hanno aderito all'iniziativa e anche ovviamente i soggetti attratori per il lavoro svolto e per la chiara esposizione di quello che è stato fatto e di quali saranno i prossimi passi. Eh io vi ringrazio ancora vi auguro buon lavoro e ancora vi porto i saluti del da parte del Dipartimento della Funzione della Funzione Pubblica. Grazie mille. Grazie, ringrazio a tutti.